Eccoci buongiorno per una nuova diretta del Pungiglione, questa mattina siamo alla bustola di San Benedetto del Tronto e abbiamo già il nostro primo ospite Giuseppe Ricci, presidente ITB Italia, imprenditori, turistici, balneari. Giuseppe mi dicevi che ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la direttiva Bolkestein, dimmi. Sì, finalmente si è pronunciato il Tribunale di Giustizia europeo e rispondendo a dei ricorsi fatti al TAR sia della Lombardia che della Sardegna ha precisato che se siamo dentro alla direttiva bisognerà rispettare i criteri emanati dalla direttiva, quindi trasparenza, messa all'asta, l'evidenza pubblica eccetera eccetera, tutto quello che comporta. Però dice anche se i nostri giudici a livello nazionale, cosa che noi abbiamo sempre detto da sempre, da dieci anni a questa parte, dimostrassero o accettassero l'idea dell'inesauribilità delle nostre spiagge che prendesse in considerazione il diritto che abbiamo di prelazione, di insistenza che avevamo. Se si ripristinasse magari il rinnovo automatico sei anni per sei anni, noi chiaramente torneremmo alle origini, ma questo dovrà dimostrarlo adesso i giudici italiani. Quindi siamo ancora un po' nell'incertezza per quanto riguarda queste proroghe delle concessioni, cioè qual è la situazione, ci sono oppure no? La situazione bisognerà vedere che volontà politica c'è in Italia di salvare le 30.000 imprese che sono quelle turistiche balneari. Se il governo volesse già da tempo avrebbe potuto risolvere la questione, lo avrebbe potuto fare dal 2011, quando siamo stati in Europa ad incontrare due commissari, Mr. Fromm e un altro commissario europeo, e in quell'occasione avevamo con noi sia l'onorevole Granaioli, la senatrice Granaioli, ma anche la Serracchiani, che oggi è una vicepresidente del Partito Democratico, una persona di spicco, che in quell'occasione, 2011, era con noi. E lì ci fu ribadito quello che hanno detto oggi. La soluzione va trovata in Italia. La politica italiana deve predisporre un decreto, una legge, che garantisca gli attuali concessionali di spiaggia e i loro investimenti fatti. Allora, noi speriamo di trovare una soluzione, quindi ci risentiremo questi giorni, se ci sono aggiornamenti, insomma, facci sapere una domanda un po' più leggera. Quest'estate come sta andando dopo un mese di giugno, abbastanza difficile? Ma dopo un tempo perturbato, molto perturbato, del mese di giugno, che ha vanificato un po' tutte le nostre aspettative, oggi si riparte, si riparte, sperando che mantenga il bel clima che solitamente abbiamo e si trasformi quel flusso turistico del weekend, perché oggi abbiamo dei weekend eccezionalmente affollati, mentre durante gli altri giorni, insomma, si vivacchia. Ecco, la spiaggia è bella sempre, in qualsiasi giorno, quindi noi invitiamo tutti magari a fare una vacanza leggermente più lunga, possibilmente anche in quei giorni dove c'è meno affollamento e si può gustare di più il nostro litorale, la nostra spiaggia, le nostre purissime acque. Infatti noi invitiamo tutti a venire a trovarci oggi, che è lunedì, qui alla Bustola di San Benedetto del Tronto e noi con il Pungiglione ci sentiamo più tardi e ti ringraziamo di essere stato nostro ospite. Grazie. Grazie, grazie a voi. A dopo, ciao. Eccoci, siamo tornati in diretta dalla Bustola di San Benedetto del Tronto, abbiamo altre due ospiti, due fantastiche ospiti, insomma, si parla di cultura al Pungiglione e abbiamo Anna Rita Cinaglia, che ha scritto questo libro, Le Sette Porte del Cuore, di cui fra poco parleremo e insieme a Anna Rita c'è Sabrina Cava, benvenute. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Ciao Anna Rita, buongiorno anche a te. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R9, buongiorno. Senti, Anna Rita, parliamo subito di questo libro, Le Sette Porte del Cuore, è un libro che parla di questo territorio bellissimo. Allora, il romanzo è un romanzo completamente ambientato nella Regione Marche ed è un romanzo che tocca in qualche modo tutte e cinque le province della Regione. Vorrei fare un piccolo, diciamo, riassunto del romanzo. La protagonista è una donna del wine, una donna, il suo nome è Giulia Masci, che ha un'azienda vitivinicola perché ho scelto una protagonista che lavora nell'ambito del vino. Perché la nostra Regione è coperta di vigneti, quindi alzare lo sguardo e vedere questi bellissimi vigneti e poi soprattutto un prodotto enogastronomico molto importante che aiuta anche il distretto economico della nostra Regione. E poi oggi è diventato molto glamour lavorare nell'ambito del settore vitivinicolo. Quindi questa donna che, ristrutturando un casale ad Offida, scopre un'antica mappa della Regione Marche. Questa che tra l'altro è nella quarta di copertina, quindi questa mappa della Regione Marche. In questa mappa la invita a cercare, nelle città che non vedono luce, i numeri nel segno del poeta. Una scritta in latino che appunto le fa questo invito. Quindi lei insieme alla coagliuvata e alla sua amica Ginevra, quindi questo rapporto tra queste due amiche, e inizierà questa ricerca nella Regione Marche, nelle città sotterranee. Perché ho scelto le città sotterranee? Perché intanto ho dato un tocco di esoterismo a questo romanzo, anche perché la Regione Marche è ricca di città sotterranee. Pensiamo ad Osimo, in cui ci sono camminamenti per quasi 20-30 chilometri. Una piccola precisazione. 4-5 giorni fa, in una puntata di Voyager, Giacobbo ha fatto proprio una puntata dedicata ad Osimo e a Camerano. Quindi mi sembrava di vivere una parte del mio romanzo. Ti giuro non l'avevo chiamato, però forse era meglio, perché magari mi faceva un po' di pubblicità e forse... Non sarebbe stato male, insomma. E' stato fantastico. Ma ciò non toglie che io probabilmente mi libero un attimino del mio lavoro e gli spedirò una copia del mio romanzo a Giacobbo, perché è stato veramente una... con tanti collegamenti che poi magari vi dirò. Poi abbiamo Camerano, anche città sotterranee, senza considerare Urbino, c'è tutta la città sotterranea, tutto il palazzo di Urbino, e poi anche Macerata e anche Ascoli Piceno. Consideriamo che a Monsampolo ci sono dei camminamenti sotterranei molto importanti, di cui sempre si è occupato Voyager. Non solo una partita di Voyager, ma il fatto che comunque un programma nazionale porta alla ribalta dei luoghi del Piceno importanti è sicuramente una cosa da menzionare. Oltre a questi luoghi sotterranei sono citate tutte le bellezze della nostra regione, quindi le nostre protagoniste girando appunto le marche si raccontano questa regione. Quindi un romanzo esoterico, un romanzo misterioso, ma nell'ambito del quale c'è anche una bellissima storia d'amore, perché la storia d'amore non può mancare. Sì, ma non ne parliamo, altrimenti diciamo tutto, quindi è una sorpresa. È una sorpresa. E vorrei precisare che il romanzo è inventato ai nostri giorni, dal 1 al 7 giugno 2015, con un feedback nel passato durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi magari dirò qualche altro aneddoto al riguardo. Insomma, storia, cultura, paesaggio, c'è di tutto. Ecco, vorrei precisare che il romanzo, proprio per il contenuto di promozione turistica e anche di riferimenti storici molto importanti del passato, gode del patrocino della Regione Marche e di tutti i patrocini dei comuni a cui abbiamo fatto richiesta, a partire da Castignano, Offida, San Betto del Tronto, Grotta a Mare, Genga, Pesaro, adesso siamo aspettati a Monsampolo, tutti i patrocini, diciamo, dei comuni che occorre il tempo di farne richiesta, di aspettarli e li avremo tutti quanti. Quindi collezioneremo, ma non è soltanto una collezione, è proprio l'attenzione che le amministrazioni stanno ponendo nei confronti di questo romanzo che veramente mi gratificano un poco. Allora, io ti blocco un attimo e vado da Sabrina. Diciamo la mia presenza, diciamo. Sì, diciamo qualcosa. Allora, innanzitutto volevo dirti, volevo chiederlo a te. Sì. Questa Narita qui, in realtà, è una dottoressa commercialista che si è messa a scrivere, no? Dimmi qualcosa tu al riguardo. Allora, Narita Cinaglia è una mia carissima amica che io odio profondamente in quanto commercialista, in uno specifico la mia commercialista. Un giorno, quest'inverno, facendo una chiacchierata, io mi occupo proprio un po' di editing, di presentazione di romanzi, vengo individuata come quella che si definisce grande lettrice e lei, sapendo di questa mia attività, mi ha detto, io ho in mente di scrivere un romanzo. Io anche con sufficienza, devo dire la verità. Con sufficienza, sì. E invece, nel giro di un paio di mesi, lei mi ha sottoposto questo dattilo scritto corposo e io, naturalmente, è un'amica, ma poi lo faccio anche proprio per professione, ho iniziato a leggere. E ho intravisto in questo romanzo, in quest'opera, qualcosa di veramente valido, sia per proprio la fantasia della storia che è costruita proprio in maniera, cioè il coté della narrazione è molto particolare, perché con questi feedback che spostano dai giorni nostri della Seconda Guerra Mondiale, che ha visto le Marche protagoniste anche di eventi piuttosto drammatici, soprattutto dell'Alto Marche, nel Pesarese, mi ha entusiasmato. Quindi ho fatto con lei un lavoro di editing e correzione di prima bozza e poi, come diceva lei, l'abbiamo sottoposto alle amministrazioni in primis a cominciare alla Regione Marche che ne ha riconosciuto questo alto valore promozionale. Ed è per questo che noi due siamo ormai una coppia di fatto, e quindi ci stiamo girando un po' tutte le Marche. E' una bella passeggiata. E' una bella passeggiata perché siamo proprio reduci, tornate ieri sera a tardanotte, di un viaggetto, nel weekend, siamo state a Pesaro e siamo state a Sirolo, dove abbiamo presentato il romanzo, e che ha riscosso molto successo. Perché? Perché il concetto è questo. Le Marche noi ce le siamo raccontate, ce le stiamo raccontando, e ce le valorizziamo anche attraverso questi strumenti di divulgazione e di promozione turistica, che può essere un romanzo piuttosto che una fiction, eccetera. Però quello che deve passare è che noi vogliamo raccontare a chi è fuori le Marche e magari sceglie le Marche per passare le vacanze. Quindi presupponendo che è ammirato dal nostro territorio. E stiamo riscuotendo un notevole successo. Lo possiamo dire? Sì, siamo contenti che la cultura ancora conta, che è bello avere successo, una soddisfazione. Sì, sì, diciamo si fatica un po' per approcciare, perché ancora c'è un po' di diffidenza. Io mi sto accorgendo che approcciano alla cultura chi già ha un rapporto con la cultura. Invece il mio obiettivo, e quello penso di tutti quelli che tentano di sfondare qualche porta, è quello di approcciare persone che magari con la cultura hanno un po' poca dimistichezza. perché è lì che bisogna andare ad incidere. E lì vogliamo andare a incidere. Perché questo è un romanzo che è un romanzo un po' per tutti. È un romanzo trasversale, non ha un pubblico determinato, non è un saggio che parla delle Marche, non è una guida turistica. È proprio un romanzo. Ha la narrazione del romanzo, nello specifico del romanzo, diciamo, esoterico, del romanzo che si va alla ricerca, quindi anche di un giallo. Per cui è intrigante la lettura. E la particolarità è che i luoghi descritti minuziosamente, molto bene dall'autrice Anna Rita Cinaglia, non vengono raccontati didascalicamente, ma vengono raccontati da queste protagonista e dai vari personaggi in maniera discorsiva. Per cui questo affascina. Affascina chi quei luoghi li conosce, perché li ricorda, li rimembra e li rivive, leggendo, perché chi legge viaggia due volte, ma anche per chi non li conosce e ne è affascinato e desidera andarli a conoscere. Ebbene, allora, noi torneremo fra poco a parlare delle Sette Porte del Cuore con Anna Rita e Sabrina. Intanto diamo la linea allo studio. Ci sentiamo fra pochissimo. Sì. Ecco, ci siamo tornati in diretta dalla bustola di San Benedetto del Tronto. Io voglio farvi salutare da queste due bellissime ospiti, Anna Rita Cinaglia e Sabrina Cava. Insomma, abbiamo parlato del tuo libro. Facciamo un saluto agli ascoltatori di R9. Saluto tutti agli ascoltatori di R9 e l'invito a leggere Sette Porte del Cuore. Il romanzo lo possono trovare alla biblioteca o anche qui alla bussola o presso la rotonda, alla libreria rotonda di Porto d'Ascoli. Grazie mille. Eccomi. Salute tutti. L'invito alla serata che ci sarà venerdì prossimo, 22, presso i bagni Andrea, alle 19.30, perché faremo una presentazione un po' glamour del romanzo e poi ci prenderemo insieme un aperitivo con i vini Ciu-Ciu e la Vergara Formaggi. Insomma, non mancate e ci vediamo il 22 noi. Grazie mille. Ecco, grazie. Grazie a tutti. Ciao, grazie a voi. Grazie a voi. Adesso parliamo un po' della bussola, perché noi siamo ospiti qua questa mattina con Emilio Delle Zompo. Emilio, allora, com'è questa bussola? Raccontaci, parlaci un po' di questo chalet. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, questo è uno stabilimento storico di San Benedetto. Noi facciamo questo lavoro da generazioni. Sono io con le mie sorelle e mia moglie. Niente, siamo qui e abbiamo la nostra clientela abbastanza selezionata che ci segue da tanto tempo. E così. Senti, un punto forte di questo chalet è la cucina. Sì, noi puntiamo molto sulla cucina, cucina tradizionale. come mi ricordava mia moglie prima quando non eravamo in diretta, di dire che nella nostra cucina non ci sono chef ma solo donne di casa. Quindi c'è mia sorella, mia mamma, mia moglie stessa. Quindi, ecco, e la nostra caratteristica è il brodetto alla San Benedettese. Tu cucini? Io non cucino, io faccio l'assaggiatore, si vede anche dal fisico e quindi, no, no, io non cucino, cucinano loro, sembra che la formula è una formula giusta, cioè quella della cucina tradizionale, la gente viene e niente. Il brodetto, come ripeto, è il nostro piatto, il nostro piatto, diciamo, principale, è il nostro cavallo di battaglia. Voi siete aperti a pranzo ma anche a cena su prenotazione, mi dicevi. Sì, a pranzo sempre, a cena è proprio il motivo per cui chiediamo la prenotazione perché noi lavorando con il pesce solo ed esclusivamente fresco, quindi insomma, essendo piccolini, preferiamo avere una prenotazione e così magari il pesce che compriamo è proprio per le persone che ce lo richiedono appositamente. Insomma, abbiamo fatto venire un po' l'acquolina in gola ai nostri ascoltatori, li invitiamo a venire qui alla bussola, insomma, ad assaggiare la vostra cucina. Una cosa, qui vengono sia turisti che ovviamente persone del posto ormai affezionate alla bussola. Sì, diciamo che per quello che riguarda il mio stabilimento lì a Clientera è prevalentemente locale. Ho quasi tutti, diciamo, clienti stagionali di San Benedetto e in buona parte anche sulla zona, diciamo, di Ascoli e tutta quanta la vallata. Per carità, ho anche clienti che vengono qua da 40 anni, però prevalentemente io sono Clientera locale. Insomma, noi invitiamo tutti a venire a trovarci qui alla bussola perché oggi siamo anche noi di R9 con il Pungiglione. Io ti ringrazio Emilio, grazie per l'ospitalità, grazie di tutto. Grazie a voi, siamo a disposizione per qualsiasi cosa che avete bisogno. Noi ti lasciamo andare a lavorare, insomma, grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori di R9. Grazie, insomma, vi ricordo che noi siamo qui in diretta dalla bussola di San Benedetto del Tronto e con il Pungiglione ci sentiamo più tardi. Buona giornata a tutti. Eccoci per il nostro ultimo collegamento dalla bussola di San Benedetto del Tronto. Abbiamo ospite Carlo Di Giovanni, il direttore di Ante, insomma, il nostro caro amico. Vogliamo parlare un po' di sport e di tennis con Carlo, in particolare, della semifinale del torneo internazionale di tennis, 50 mila dollari che si è svolto al CT Maggioni di San Benedetto che noi abbiamo seguito sia come R9 che come Iante. Com'è andata? È andata benissimo perché abbiamo fatto in diretta la semifinale però dopo io giustamente avendo la diretta dall'altra parte stavo alla terrazza, l'ho seguita io per il sito, ha vinto l'italiano, dopo quattro anni, dopo Naso, ha vinto Federico Gaio, un faentino che ha battuto in finale l'Estien non francese però circa 2.000 persone con ingresso gratuito. Questa dimostrazione siccome Radio R9 è la radio ufficiale del CT Maggioni dei tornei internazionali quindi era giusto e doveroso partecipare a questa ultima giornata. Il problema del tempo di venerdì scorso è stato sopperito con l'impianto al coperto quindi il tutto è fino alla norma l'unica incongruenza che anziché finire nel pomeriggio hanno dovuto chiudere nel dopocena all'ennio 21 però è stato anche meglio perché c'era più gente la serata fresca perché con il sole insomma quando esce il sole si fa fatica a 35 gradi però ecco un bel pubblico per chiudere onorevolmente questo torneo che ha rivisto a rivincere l'italiano dopo quattro anni e poi si sta già lavorando per il prossimo anno. Bene insomma è stata una soddisfazione quando vengono gli italiani è sempre meglio no per noi? Sì ma anche perché si parla sempre di futuro Gaio è uno dei ragazzi che potrebbe entrare a far parte dello staff della Coppa Davis italiana di Barazzutti ci sarà un cambio gestionale di vari Fognini seppi e quant'altro tanti ragazzi che abbiamo visto al Maggioni che saranno il futuro del tennis nazionale e internazionale. Carlo io prima ho intervistato il proprietario della Bussola che mi ha messo un po' di acquolina in bocca quindi che dici rimaniamo qui a mangiare oggi? Ma penso che ci sia vedo vedo all'orizzonte che ci dovrebbe essere uno spaghettino quindi qua vedo molte persone a mangiare quindi penso e deduco che si mangi anche bene perché mangiare in riva al mare è il massimo che si possa avere. Infatti qui è stupendo allora noi ce ne andiamo bello a mangiare salutiamo tutti gli ascoltatori di R9 auguriamo buon appetito a tutti e noi con il Pungiglione ci sentiamo domani e domani non saremo più a San Benedetto bensì a Giulianova quindi seguiteci dalle 11 e mezza all'una il Pungiglione ciao buona giornata a tutti ciao buona giornata a tutti